Anche oggi, quinta domenica di Pasqua, la parola di Dio ci aiuta a scavare nel mistero della Pasqua del Signore, della Sua croce e risurrezione. Come dicevo domenica scorsa, in queste domeniche di Pasqua, la liturgia ci fa vedere i frutti della Pasqua, domenica per domenica, fino al frutto più grande, il dono più grande del Signore risorto, che è il Suo Spirito, lo Spirito Santo. Sarà la festa solenne di Pentecoste, il 31 maggio, che a Dio piacendo chiuderà questo tempo di Pasqua, l'effusione del Suo Spirito sugli Apostoli e su di noi, la festa di Pentecoste, il dono più grande, il frutto più gustoso della Pasqua di Gesù. E come domenica scorsa abbiamo considerato un frutto, un aspetto della Pasqua del Signore, quando abbiamo ascoltato Pietro che annuncia quel Gesù, quel Gesù che voi avete crocifisso, è stato costituito Signore, Capo. Il Vangelo lo indicava come il pastore bello, il pastore buono, la guida, il criterio ultimo di riferimento, di giudizio, colui che è determinante per tutta la storia. Così, nel Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua, abbiamo ascoltato una parola grande di Gesù, una delle sue più grandi autorivelazioni. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono. Specialmente il Vangelo, secondo Giovanni, riporta le frequenti autorivelazioni di Gesù. Io sono. Io sono il pane della vita. Io sono la risurrezione e la vita. Io sono la luce del mondo. Oggi io sono la via, la verità e la vita. Chi conosce la scrittura sa l'importanza di questa parola. Io sono. Io sono è il nome di Dio. Il nome che Dio rivela a Mosè dal rovieto ardente. Queste parole Gesù le pronuncia in un contesto particolare. Siamo in un contesto drammatico. Durante la scena, la vigilia della sua passione, il Vangelo, secondo Giovanni, riporta questo discorso di addio di Gesù. E' una notte molto struggente. E' una notte drammatica. E' la notte del tradimento. C'è la solitudine di Gesù e anche l'isolamento dei discepoli. Di lì a poco, Egli sarebbe stato innalzato sulla croce. Sì, potremmo dire anche Lui in totale isolamento. Persino separato dal Padre, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sulla croce, Gesù ha fatto Sua la solitudine che tutti noi, cari amici, abbiamo vissuto in questo periodo. La notte prima che morisse, questo isolamento era già palpabile. Aveva raccolto attorno a sé gli amici più stretti per un'ultima scena. Uno di loro l'aveva già venduto a quelli che volevano la sua testa. Pietro, la roccia, stava per negare di averlo conosciuto. E la maggior parte degli altri era lì, lì, per portargli le spalle. Quando la comunità stava andando a pezzi e ciascuno si preparava ad affrontare il futuro da solo, Gesù fece la promessa di una nuova comunione, che sarebbe stata più forte del tradimento e che nulla, neppure la morte, avrebbe potuto distruggere. Questa nuova comunione, che sarebbe nata dalla Sua croce e risurrezione, viene espressa con le parole che abbiamo ascoltato poco fa. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Io vado a prepararvi un posto. Poi ritornerò e voi sarete con me dove sono io. Sono i capitoli 14 e 15 del Vangelo secondo Giovanni. Il suo struggente discorso di addio, di cui abbiamo ascoltato solo una parte stamattina. Un'altra parte, a Dio piacendo, l'ascolteremo domenica prossima, sesta di Pasqua, quando Gesù aggiungerà parole ancora più forti. Non vi lascio, orfani. Vi mando lo Spirito. Rimanete in me e io in voi. Io sono la vita e voi tralci. Quando le nostre chiese sono ancora chiuse e il culto pubblico è ancora temporaneamente sospeso, quella promessa resiste ancora. Sì, questo orribile veleno, sì, veleno, il termine virus in latino significa veleno, ci costringe a mantenere l'isolamento, il distanziamento l'uno dall'altro, fisicamente. E questa è una privazione profonda, soprattutto ammessa, cioè nel cuore della nostra fede, nel cuore della nostra vita di comunità, come avverrà tra qualche settimana. e speriamo che non sia un modo di celebrare la Messa che potrebbe essere esclusivo, escludere alcuni, per numero chiuso. Ma i cristiani credono che tutta la nostra solitudine sia abbracciata in una comunione che oltrepassa ogni barriera. Il Signore risorto viene attraverso le porte dietro alle quali i discepoli si erano chiusi in auto-isolamento e li libera dalla paura e dalla solitudine. Nel discorso che abbiamo appena ascoltato c'è una parola che ho già evidenziato, una parola di Gesù, una parola che, se non fosse veramente risorto, sarebbe la parola di un pazzo, di un impostore. Del luogo dove io vado, voi sapete la via. Tommaso, come al solito, forse il più lucido, il più razionale degli apostoli, come sappiamo, gli obietta. Ma tu stai dicendo che te ne vai? Noi non sappiamo nemmeno dove vai? Come possiamo conoscere la via? Io sono la via. Io sono la verità. Io sono la vita. Attenzione a queste parole. Non ce le facciamo scivolare addosso, ormai presi come facciamo spesso dalla assoefazione, dall'abitudine al Vangelo. Badiamo bene. Io sono la verità. Io sono la via, la vita. Gesù non ha mai annunciato un messaggio o il Regno di Dio e ha chiesto l'adesione solo al suo messaggio, al suo insegnamento. No! Il messaggio di Gesù è Lui. Il Vangelo è Lui. Il Regno è Lui. Ed Egli chiede l'adesione non semplicemente al suo insegnamento, ma chiede l'adesione a Lui. Chiede di seguire Lui, di scegliere Lui, di prendere Lui come criterio di riferimento. Cioè, Gesù lega alla sua persona, non al suo insegnamento. Cristiano è chi sceglie Gesù Cristo e lo segue. Ora, cari amici, questa è una pretesa. Se vogliamo essere onesti, umanamente razionali, queste parole di Gesù o sono le parole di un pazzo, di un fanatico, o invece sono delle parole grandi. È una pretesa. Gli studiosi dei Vangeli la chiamano proprio così, la pretesa messianica di Gesù. Chi pretende di essere? Io sono. Si fa uguale a Dio. È come possibile che un uomo dica io sono la verità. Non io insegno la verità. Io sono la verità. La verità non è un'idea, non è una teoria, non è un sistema di pensiero, è una persona, è una persona crocifissa e risurto. Dovrebbero, tra l'altro, pensarci bene quegli uomini di Chiesa a partire da me quando difendono una verità astratta, ideologica, quando la vogliamo presentare come una teoria, una dottrina. No! La verità è una persona, è una persona di Gesù, crocifisso e risorto. Ma vorrei sottolineare un'altra cosa. I fondatori di religione, come Buddha, Confucio, ad esempio, Maometto, non si sono mai sognati, non hanno mai preteso di legare il loro messaggio alle loro persone. Buddha non ha mai preteso di essere la via, ha solo indicato la via per essere felice. Maometto non si è mai identificato con la verità, ha ritenuto solo di trasmettere la verità. Confucio non ha mai attribuito a se stesso la qualifica di vita, ma ha insegnato una filosofia di vita adatta alla società. Con Gesù non è così. Egli pretende di essere lui, la sua persona, la via, la verità e la vita. veramente di fronte a lui, come diceva il bravo Vittorio Messori qualche anno fa nel suo stupendo libro Ipotesi su Gesù, due sulle ipotesi su Gesù. O è un pazzo, oppure è Dio. Terzium not datus. Non si può dare, non si dà una terza ipotesi. E se Gesù non fosse risorto, tutto il suo insegnamento cadrebbe nel vuoto. Le parole di Gesù, il suo insegnamento, sono legati a lui, alla sua persona. O stanno insieme, o cadono insieme. Non si può separare l'insegnamento di Gesù dalla persona di Gesù. Cari amici, ci prepariamo a ritornare, diciamo così, alla normalità. Mi raccomando sempre, con la massima prudenza e senso di responsabilità. A giudicare da queste prime giornate non mi pare che stiamo usando tanta prudenza e responsabilità. Vorrei esprimermi ormai verso la conclusione di questo primo periodo del tempo di pandemia. Vorrei rivolgere una speranza, una speranza che una volta terminata la pandemia, medici, infermieri, volontari, forze dell'ordine, istituzioni, continueranno ad aver cura di noi con la stessa passione, con la stessa competenza, con lo stesso spirito di sacrificio dimostrati in questi giorni e per i quali li ringraziamo, anche se comprensibilmente lo faranno in forme e orari più adeguati. ma io chiedo loro di non mollare e di continuare ad aver cura di noi, del popolo, della gente, con la stessa passione e con lo stesso spirito di sacrificio dimostrato in questi giorni. Anzi, permettetemi un'ulteriore riflessione. ma se si mettesse lo stesso impegno da parte soprattutto delle istituzioni per combattere un'altra emergenza che è connessa con quella sanitaria che stiamo vivendo, l'emergenza ambientale, l'emergenza dell'inquinamento dell'ambiente che in questo tempo sembra sia passata in secondo piano, ma non si è cessati di morire per inquinamento ambientale in questo tempo di pandemia. L'ultima vittima la devo ricordare come faccio di solito in questo triste elenco delle giovani vittime che muoiono nelle nostre terre. l'ultima è il giovane Stefano, giovane laureato, brillante giovane, molto bravo, sportivo, è morto la settimana scorsa. La sua morte non ha fatto notizia come le altre morti di ragazzi e giovani negli anni e nei mesi passati. I medici erano impegnati nella cura del Covid-19 è stato un po' abbandonato, la sua famiglia ha penato molto. A questo proposito rivolgo un appello che gli ospedali man mano che chiudono grazie a Dio i reparti Covid ritornino al più presto alla loro normalità. forse comprendiamo che a causa di questa emergenza sono state sospese visite, terapie, anche di malati gravi. Questo deve finire. Una volta che andiamo verso la fine dell'emergenza della pandemia si riprenda più presto negli ospedali le visite, le terapie, la vicinanza a questi malati di tumore, di cancro delle nostre terre. E aggiungo un'altra cosa. Giustamente si fanno di qua e di là proposte per ricordare i medici e gli operatori sanitari morti in questo periodo. Addirittura si pensa di dedicare loro una giornata bene, è giusto, è doveroso farlo. Ma a quando? Quando? Fino a quando dobbiamo aspettare per ricordare i giovani, i ragazzi morti di tumore di cancro nelle nostre terre? a quando una giornata per loro, dedicata all'oro, alle vittime dell'inquinamento ambientale, perché non cadano nell'oblio, nella dimenticanza e sia uno stimolo per un ulteriore impegno per l'emergenza ambientale. Ormai le giornate dedicate in un anno, giornata questa, giornata per quest'altro, non si contano più. se non sbaglio, mi sembra che c'è addirittura una giornata per l'igiene delle mani, per l'igiene delle mani e non per le vittime dell'inquinamento ambientale. Dobbiamo riprendere questo impegno, questa lotta, che questa emergenza sanitaria non ce la faccia dimenticare. le due emergenze sono molto collegate tra loro. Non a caso, proprio in questo periodo in cui tutto era fermo, abbiamo visto che l'inquinamento è fortemente diminuito, le acque del mare e dei fiumi sono tornate più limpide, gli animali hanno ripreso il loro habitat. dobbiamo approfittare di questo momento per continuare questo impegno. Un ultimo appello lo rivolgo, mi faccio mio, mi associo all'appello che ha fatto il Cardinale Seve l'altro giorno a Pompei, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, l'appello all'Inps, alle banche, al governo. Fate presto per assegnare gli aiuti economici, la cassa integrazione, il bonus di 600 euro. Mi ha fortemente impressionato la dichiarazione di un operatore di un call center dell'Inps. ha dovuto ricevere giornate e giornate telefonate disperate di quelli che telefonavano e dicevano ma come mai la mia domanda non è stata accettata, ma vedete meglio, io non ce la faccio, non posso andare avanti, ma volete che vada a fare qualche rapina? Perciò, lo so, capisco, le pastoie della burocrazia, le difficoltà dell'amministrazione, ma fate presto, fate presto. Non è possibile che ci siano persone che da due mesi e oltre stanno aspettando questi aiuti economici, già previsti dal governo. è un appello accorato di tutti noi perché questa pandemia non faccia ulteriori vittime, questa volta non di natura sanitaria, ma di natura economica e morale.